Parte da Foggia il tour elettorale pugliese del ministro per il sud della coesione territoriale Mara Carfagna stasera tappa a Bari domani a Taranto. Paure e disperazioni in una farmacia di Barletta che negli ultimi tre giorni ha subito tre rapine da quelle che secondo i titolari sarebbe sempre la stessa persona. Il forte appello rivolto ad istituzioni locali e nazionali. Illustrati presso la spiaggia di Pane Pomodoro a Bari i risultati del progetto di serimento lavorativo per persone con disagio psichico e in condizioni di fragilità socio economica. Ben ritrovati siamo all'edizione provinciale del nostro Tg dedicato a Bari Batte Foggia un'ampia pagina politica in apertura a cominciare dalla visita iniziata poco fa in Puglia del ministro per il sud della coesione territoriale Mara Carfagna che è arrivata in Foggia ospite in prefettura. Parlato subito dei fondi per la regionale 1 ma sentiamola al microfono di Antonella Davola. L'ultimo risultato in ordine di tempo mi auguro che ce ne possono essere ancora altri nei prossimi 20 30 giorni anche se di ordinare amministrazione sicuramente uno dei risultati più importanti uno dei risultati che mi rende più fiera più orgogliosa perché è un risultato che come mi ha sempre detto il presidente Nicola Gatta questi territori aspettavano da tantissimo tempo si era spesso provato a raggiungerlo ma non ci si era riusciti e quindi è motivo di grande soddisfazione per me essere riuscita a stanziare un'ulteriore tranche di finanziamento per la programmazione e la realizzazione di una prima tratta della strada regionale 1 Poggio Imperiale Candela. So quanto sia importante quest'opera quanto sia strategica questo territorio questo è il nostro modo di fare politica è il modo di fare politica che ci piace attraverso i risultati attraverso la concretezza attraverso gli obiettivi raggiunti attraverso un dialogo sempre costante e proficuo con gli amministratori locali validi impegnati come Nicola Gatta che ringrazio per avermi sollecitata a compiere questo intervento e oggi insomma esprimiamo soddisfazioni entrambi perché è il risultato che abbiamo raggiunto nell'interesse di questo territorio. E intanto oggi a Bari conferenza stampa del partito Fratelli d'Italia il PNRR il piano nazionale di ripresa e residenza ma anche la sanità al centro dell'attenzione dell'onorevole Raffaele Fitto c'era anche il coordinatore regionale Marcello Gemmato e altri candidati sentiamo Antonio Bucci. La pandemia ci ha messo di fronte ad uno scenario diverso, c'è bisogno di rafforzare la medicina territoriale lavorare sulla prevenzione, il PNRR dà queste opportunità ma bisogna anche saper leggere all'interno del PNRR le reali possibilità. Raffaele Fitto tratteggia così il quadro cambiato dopo l'emergenza Fratelli d'Italia Accelere accende i fari sulla sanità, competenza regionale dopo il titolo quinto ma non ci stanno, spiegano a passare per il centro-destra avverso alla sanità pubblica e puntano il dito sulla gestione Covid ruolo più forte dei medici di medicina generale e farmacie dall'ospedale centrismo alla medicina di prevenzione territoriale la presa in carico di malattie croniche degenerative in rete allineando ospedale, ambulatorio, assistenza domiciliare e centri diurni spiegano, intanto denunciano, il 12% dei pugliesi non si cura più. Negli ultimi dieci anni noi abbiamo assistito alla destrutturazione della sanità pubblica tre elementi, il DM70 del 2015, il definanziamento di 67 miliardi nei dieci anni anti-Covid Fonte Gimbe che è una fondazione lontana dalle posizioni di Fratelli d'Italia e poi quella che è il peccato originale ovvero la regionalizzazione della sanità con la riforma del titolo quinto della questione tre provvedimenti tutti a marchio PD Oggi la medicina ha fatto passi da giganti sia con le tecniche chirurgiche ma anche con tecniche farmacologiche e radioterapiche però dobbiamo arrivare in tempo dobbiamo ribaltare la direzione del governo nazionale perché dobbiamo disallineare il governo nazionale rispetto al governo della regione perché il governo nazionale deve esercitare un controllo praticamente tutto il contrario di quello che fa Emiliano in Puglia dobbiamo puntare sull'efficienza, sull'efficacia e sull'organizzità della spesa basta con le clientele, pensiamo invece alla salute e alla vita delle persone difendere il paese dagli eredi del fascismo il presidente della regione Puglia Michele Emiliano in visita a Foggia per partecipare alla conferenza stampa organizzata dal Movimento Civico Insieme per la Capitanata in sostegno della coalizione Italia Democratica e Progressista il presidente Emiliano ha commentato anche le parole di Matteo Salvini leader della Lega in merito alle infiltrazioni mafiose in terra di Capitanata ce ne parla Antonella Davola questa possibilità cioè che al governo di un paese fondatore dell'Unione Europea si possa riproporre le rede di Mussolini per correggere gli errori di quest'ultimo è una cosa che secondo me non fa il bene dell'Italia non usa mezzi termini il presidente della regione Puglia Michele Emiliano per definire l'obiettivo e lo spirito della campagna elettorale del centro-sinistra che definisce una vera e propria resistenza a chi intende annullare il percorso democratico e progressista della storia italiana negli ultimi 70 anni questi tratti salienti del suo intervento a Foggia in occasione di un incontro organizzato dal Movimento Civico Insieme per la Capitanata a supporto della coalizione Italia Democratica e Progressista nella provincia di Foggia noi rischiamo di avere problemi economici, commerciali, culturali con Mezzomondo perché Mezzomondo non si è scordato quello che l'Italia ha fatto 70 anni fa cioè ha dichiarato guerra a Mezzomondo, ha fatto un'ira di Dio ha rischiato di dare manforte a Hitler e all'imperatore del Giappone abbiamo fatto una serie di cose sbagliate che sono nella memoria degli altri paesi noi forse in Italia ce ne siamo scordati ma quelli non ce ne sono scordati Presidente, un commento suo invece sulla botte rispostata tra centro-destra e sinistra sulle infiltrazioni della criminalità? Ma guardi, io posso solo dirle che la frase di Salvini e la frase di un ex ministro dell'interno è una frase completamente sbagliata perché è il suo ministero quello presso il quale ha lavorato e sul quale credo non faccia polemica non è che sta dicendo che il ministero ha sbagliato è il suo ministero che ha sciolto il comune è il suo ministero che ha dato assistenza attraverso le forze di polizia alla magistratura per effettuare le indagini che hanno portato all'arresto di molti esponenti tra i quali anche il sindaco ovviamente la cosa mi ha molto addolorato perché avrei preferito che non fosse mai avvenuta una cosa del genere perché la figuraccia che abbiamo fatto in tutta Italia con lo scioglimento addirittura di un capologo di provincia per mafia me la sarei voluta evitare anche se può essere comodo dare la colpa ad un'altra forza politica Ancora politica a Bari via Argiro questa mattina c'è stata l'inaugurazione del comitato elettorale del Movimento 5 Stelle la presenza ovviamente di numerosi candidati per le prossime politiche del 25 settembre c'era anche una truppa di Antenna Sud vediamo il servizio La doppia morale nella realtà deve guardarla in casa sua perché è stato lui che ha deciso che non dobbiamo andare avanti insieme l'alleanza progressista che stavamo facendo era una misura che con Conte si stava portando avanti poi lui ha deciso che noi non andavamo bene ma andavano bene quelli che avevano votato oltre 50 volte la sfiducia al governo Draghi mentre noi non abbiamo mai votato la sfiducia anzi pure nel momento in cui Draghi è venuto in aula in Senato per sostanzialmente per farsi sfiduciare noi abbiamo detto non votiamo la sfiducia cioè ci asteniamo ma siamo disponibili a qualsiasi incontro a qualsiasi punto di riferimento perché dobbiamo vedere come andare avanti La replica è di Gian Mauro Dell'Olio senatore uscente, capolista alla Camera Bari per il Movimento alle parole di Enrico Letta affidate a Repubblica sulla doppia morale dei pentastellati l'occasione è l'inaugurazione del nuovo quartier generale 5 Stelle in via Argiro ci sono dentro i candidati come Alberto De Giglio che correrà all'uninominale e gli amministratori non solo del capoluogo le battaglie storiche dal reddito di cittadinanza al salario minimo a poche ore dalla presentazione romana del programma ma anche dall'alvolata del leader Giuseppe Conte di ritorno in Puglia nei prossimi giorni dalla Capitale in vista del gran finale Noi siamo gli unici, dobbiamo ricordarlo, dalla parte dei cittadini ma non è soltanto per dire perché c'è un motivo molto concreto i partiti vengono finanziati dalle multinazionali e dalle banche in campagna elettorale noi veniamo finanziati dai microfinanziamenti dei cittadini quindi i nostri lobbisti sono i cittadini e siamo gli unici che quando arrivano in Parlamento hanno le mani libere e sono a favore dei cittadini come diceva lei il super bonus, il salario minimo, il reddito di cittadinanza il codice rosso contro la violenza sulle donne ricordiamone soltanto alcuni io personalmente porto una battaglia di cui purtroppo non parla nessuno in Italia tutelare i bambini su internet oggi un bambino di 5 anni ha accesso a siti per adulti senza il filtro di un genitore non abbiamo assolutamente bloccato il decreto aiuti perché il decreto aiuti è già operativo visto che da quando viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale è operativo e deve essere convertito entro il 9 di ottobre c'è tutto il tempo ora noi abbiamo posto solo il focus sulla questione super bonus una campagna elettorale infuocata quella in Capitanata dove centrodestra e centrosinistra si scontrano sui temi della legalità e delle infiltrazioni nelle amministrazioni locali vedete quello che è successo nelle scorse ore stiamo assistendo in questi giorni ma una campagna elettorale secondo me un po' strana perché io preferirei parlare di temi e non di altri argomenti si sta delegittimando l'azione di un'amministrazione di centrodestra non soltanto questa ma di tante altre continua il botte risposta tra il centrodestra e il centrosinistra in merito al tema delle infiltrazioni mafiose nelle amministrazioni della Capitanata alimentato di recente dalle dichiarazioni del leader del Carroccio Matteo Salvini che ha messo in dubbio le responsabilità dell'ex primo cittadino di Foggia circa lo scioglimento del comune e dalle affermazioni di Francesco Boccia responsabile regioni ed enti locali della segreteria nazionale del PD che ha definito infiltrata la destra foggiana qualcuno parla di legalità parla di infiltrazioni e d'altro canto vedo sulle testate e dimentichiamo che ci sono gruppi che hanno amministrato e che oggi sono anche al governo della regione che in qualche maniera appoggiano candidati di sinistra che nelle ultime interviste ho visto che parlano di legalità di un centrosinistro che può riportare e cosa fanno? appoggiano il candidato di centrosinistro ma chi appoggia il candidato di centrosinistro? quei gruppi che sono stati sciolti per mafia noi i voti di mafiosi e di zone opache non ne vogliamo da noi devono stare lontani perché il nostro obiettivo è sconfiggere la mafia perché la mafia indebolisce l'economia del nostro territorio e quindi su questo sfidiamo tutti a stare su questo pezzo e a non accettare i voti che provengono da quella parte questo è ciò che noi stiamo dicendo e ciò che noi proviamo a fare abbiamo chiesto di rafforzare gli organici diamo atto alla squadra Stato a partire dalla Procura della Repubblica al Comando dei Carabinieri Questura, Guardia di Finanza per il lavoro imponente che hanno fatto contro la mafia foggiana abbiamo contribuito diamo una mano collaborazione istituzionale perché noi siamo convinti che distruggere la mafia significa dare più ricchezza a questo territorio dove c'è mafia c'è povertà Il coordinamento cittadino barese di Puglia favorevole traccia nel capologo regionale le linee guida del movimento politico Si è svolto a Bari il coordinamento cittadino di Puglia favorevole coordinato da Michele Traversa coordinatore cittadino alla presenza del coordinatore regionale Gigi Leonetti e di quello provinciale di Bari Felice Teofilo In questo periodo è stato detto durante il dibattito in cui i cittadini pugliesi non vogliono più parlare di politica Puglia favorevole continua a convogliare a sé più persone Il movimento politico regionale si colloca al centro della politica pugliese una politica moderata che rispetta i valori cristiani Puglia favorevole è composto da persone della società civile persone si è detto nel coordinamento cittadino di Bari che hanno scelto questa strada stanche della politica attuale e soprattutto di pagare tante tasse alle quali secondo il parere degli aderenti non corrisponderebbe un servizio utile in cambio Chi ha aderito a Puglia favorevole fa sapere Michele Traversa ha aderito per partecipare in prima persona al cambiamento Questo movimento ha concluso il coordinatore cittadino di Bari fondato ad ottobre del 2021 oggi ha circa 15.000 adesioni in tutta la regione Puglia Fin qui la nostra ampia pagina dedicata alla politica e verso le elezioni adesso ci concediamo una parentesi dedicata ad un'anticipazione dalla pagina sportiva perché sta per scendere in campo il Bari a Cosenza allo stadio San Vito la partita inizierà alle 14 lì in Calabria c'è il nostro inviato Flavio Insalata per le ultime novità Flavio buon pomeriggio a te la linea dal San Vito di Cosenza Buon pomeriggio Gianni stanno per cominciare Cosenza e Bari questo match valido per il quinto turno del campionato di serie B sette punti per il Cosenza nelle prime quattro gare frutto di due vittorie un pareggio e una sconfitta sei quelli del Bari un successo e tre pareggi per la formazione di Mignani che oggi è ospite di quella di Davide Dionigi andiamo a leggere le due formazioni in campo cambia qualcosa rispetto alla squadra che aveva pareggiata aveva pareggiato con la Spal il tecnico del Bari in porta c'è Elia Caprile difesa a quattro con Puccino Terra Nova di Cesare nel rientrante Ricci a centro campo infortunato Maita ci sono Mallamo Maiello e Folo Ruscio con Ruben Botta che torna al suo posto sulla tre quarti preferito a Bellomo dietro i due attaccanti Antenucci e Chedira 4-3-2-1 invece per il Cosenza di Dionigi mentre appena cominciata la gara proprio in questo istante in porta c'è Matotevic difesa a quattro con Rispoli Rigione Baizainen l'ex Foggia Martino i tre centrocampisti anzi due centrocampisti sono Boca e Brescianini da capire la posizione di Florenti che potrebbe far parte della batteria dei tre quartisti assieme all'ex Foggia Davide Merola e all'ex Benevento Brignola la punta centrale e il Patti Larry Bay che molti di voi ricorderanno anche in Serie A a Cagliari arbitra il signor Gariglio di Pinerolo gara appena cominciata con un colpo di testa di Chetira che termina fuori faci un minuto di gioco qui al San Vito di Cigi Marulla poi la linea grazie Flavio in salata grazie per questa corrispondenza dal San Vito Marulla di Cosenza adesso proseguiamo con la cronaca ci occupiamo di cronaca nera tiene banco l'indagine in cui risulta coinvolto Michele Cianci amministratore unico di Barsa S.P.A. Barletta l'avvocato a capo della società municipalizzata dei servizi ambientali della città dell'Abbate attualmente domiciliari per un'indagine legata al traffico di armi e droga nel cosiddetto dark web la Barsa non ne sarebbe intaccata e le perquisizioni a carico dello stesso Cianci avrebbero dato esito negativo ma gli aggiornamenti su questa vicenda affidati ad Antonio Gargano la giustizia dovrà ancora fare il suo corso ma a Barletta tiene ormai banco l'indagine in cui risulta coinvolto l'avvocato Michele Cianci amministratore unico di Barsa S.P.A. la società municipalizzata di servizi ambientali però resta fuori dall'indagine e non risulta intaccata dalle condotte contestate al suo massimo dirigente il nome di Cianci attualmente agli arresti domiciliari sarebbe collegato a due persone una di Barletta e una di Putignano arrestate per un traffico di armi e droga su un sito di e-commerce nel dark web secondo gli inquirenti il legale Barlettano che avrebbe assistito professionalmente i due individui sarebbe andato oltre il suo mandato riscontrando così un possibile concorso in associazione a delinquere che verrà chiarito con le indagini in corso dalle perquisizioni effettuate Cianci non sarebbe risultato in possesso di elementi incriminanti con la misura cautelare disposta per il legame con le altre due persone già arrestate a coordinare le attività la procura di Brescia sugli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza di Roma fin dal 2019 al momento l'indagine sul traffico di armi e droga nel dark web ha portato a 5 arresti Ancora cronaca una villa di lusso e veicoli per un valore complessivo pensate di 1.500.000 euro sono i beni confiscati ad un 51enne di Andria attualmente detenuto nella carcere di Foggia i carabinieri di Andria hanno confiscato beni per oltre un milione di euro nei confronti di un 51enne attualmente ristretto presso la casa circondariale di Foggia le indagini patrimoniali hanno avuto inizio dopo la condanna dell'uomo in via definitiva alla pena di 20 anni di reclusione per i reati di rapina aggravata ricettazione detenzione porto di armi da guerra e tentato omicidio in relazione all'assalto di due furgoni portavalori avvenuto l'8 aprile del 2013 in Lombardia e alla condanna di 7 anni per i reati di associazione per delinquere finalizzata alle rapine con sequestro di persona commesse nei confronti di autotrasportatori tra i mesi di settembre e novembre 2012 alla detenzione illecita di armi e munizioni gli accertamenti patrimoniali avviati dai carabinieri coordinati dalla direzione di estetuale antimafia di Bari hanno evidenziato come l'uomo abbia nel tempo mantenuto un tenore di vita notevolmente superiore alle proprie reali possibilità economico-finanziarie e capacità reddituali nonostante i modesti redditi dichiarati risultati al limite della soglia di sopravvivenza il nucleo familiare secondo gli inquilenti ha accumulato un patrimonio considerato sproporzionato rispetto agli stessi redditi il provvedimento interessa la confisca a titolo definitivo di una villa di lusso completa di arredi impianti tecnologici e superlettili di pregio tre appezzamenti di terreno una autovettura e un motociclo del valore complessivo stimato di circa un milione e mezzo di euro e adesso torniamo ad Andria anzi no andiamo a Barletta dove c'è una situazione incresciosa che riguarda una farmacia che subisce rapine tanto da creare paura e disperazione negli utenti ma non solo ovviamente anche nei titolari negli ultimi tre giorni ha subito tre rapine praticamente una rapina al giorno secondo i titolari sarebbe frutto sempre dell'operato della stessa persona il forte appello rivolto alle istituzioni locali ma anche a quelle nazionali vedete tre rapine in appena 50 giorni un identikit già fornito alle forze dell'ordine e la paura di un team di professioniste nella morsa della criminalità succede a Barletta dove una farmacia nella zona residenziale ovest della città non ha ancora ricevuto risposte dalle autorità competenti quello che fa più male è la mia rabbia e la rabbia anche delle mie collaboratrici e di mia figlia è che per ben tre volte è la stessa persona che è venuta a violare la nostra la nostra privacy la nostra la nostra farmacia la terza volta è stata ancora più atroce ecco perché poi mia figlia è stata spinta a fare quello che ha fatto cioè a mandare le mail a tutte le istituzioni perché comunque questo si è permesso di venire come se fosse casa sua cioè è entrato nel mio studio ha aperto tutte le mie cassetti la mia scrivania ha aperto dappertutto è stata terribile per me soprattutto perché sono poi io quella che stavo nello studio e me lo so visto arrivare in due secondi e ha fatto di tutto di più quindi è per questo che ci siamo mosse vorremmo un attimino più sicurezza e vorremmo che queste persone vengano prese e chiuse in carcere non tanto la somma in denaro nelle mani di un malvivente quanto le minacce armate rappresentano la paura più grande la cifra conta e non conta per me nel senso che sì l'ultima volta sicuramente ha portato via un bel po' perché io ripeto dietro avevo i cambi avevo tutto adesso cambierò tutto il mio modo di lavorare logico e sì ha preso uno stipendio ogni volta anzi più di uno stipendio il sindaco Cosimo Cannito a cui si chiede più sicurezza incontrerà le farmaciste per sincerarsi della situazione ormai divenuta insostenibile l'amministrazione deve essere più presente non ci sentiamo sicure perché non vediamo nessuno restiamo nella bat malcontento generale tra le piccole e medie imprese anche ad Andria nel corso della trasmissione Il punto di Manila Gorio il grido d'allarme da parte dei rappresentanti appunto dell'imprenditoria piccola e media andriese sentiamo Domenico Brandonizio bollette con costi aumentati a dismisura rincari generali per gas ed energia e tanta paura di sentirsi soli abbandonati e non riuscire ad andare avanti siamo ad Andria ma potremmo essere in qualsiasi altro posto in Puglia o in Italia è il grido d'allarme delle piccole e medie imprese e quindi di categorie come commercianti ambulanti artigiani o agricoltori alle prese con grandi difficoltà nella città federiciana a guidare la protesta è Savino Montaruli presidente di casa ambulanti noi siamo qui in un esercizio commerciale il titolare ci chiede come fare per andare avanti chiudere l'attività cadere nelle mani degli usurai oppure appellarsi a quelle istituzioni assenti a quella politica distratta non è qualunquismo non è populismo è la realtà tra le storie raccontate non sfugge la vicenda legata al proprietario di un panificio mi è arrivata la bolletta del mese di luglio di 7.438 con un lavoro dimezzato perché ho la strada chiusa per via dei lavori io non so come devo fare dopo l'appello a il punto trasmissione condotta da Manila Gorio le iniziative di protesta non si fermeranno il 12 settembre nuove iniziative sono state annunciate nella stessa Andrea in piazza Catuma siamo stanchi di sentire opinioni analisi non è più tempo di analisi e di opinioni c'è un'urgenza c'è un'urgenza che purtroppo ancora una volta mette la politica alle corde la politica deve ammettere che anche in questa circostanza è arrivata in ritardo Voltiamo pagina illustrati questa mattina a Bari presso la spiaggia di Pane Pomodoro i risultati del progetto di inserimento lavorativo per persone con disagio psichico e in condizioni di fragilità socio-economica eravamo lì con Antonio Vucci Sì sì assolutamente Avremo nostalgia Avremo sicuramente nostalgia L'estate sta finendo cantavano i righeira e la nostalgia c'è nelle parole dei 24 lavoratori in condizioni di fragilità psichiche e sociale coinvolti nella pulizia della spiaggia avarese di pane e pomodoro Il servizio è stato affidato dall'AMIO alla cooperativa sociale Equal Time da sempre impegnata in percorsi di inclusione sociale e nell'inserimento di soggetti in condizioni di disagio o a rischio devianza Dal 20 maggio al 15 settembre si sono presi cura del tratto di costa in questione preso d'assalto da bagnanti e turisti senza demordere distribuendo tra loro i carichi di lavoro anche in virtù dell'aumento integrato delle ore a disposizione Medici del lavoro e università peraltro hanno permesso di monitorare con dei sensori sulle maglie anche la risposta fisica a caldo e stress La richiesta spiegano ora dalla cooperativa è dedicare una parte dei bandi per le attività outsourcing a chi fa cooperazione sociale hanno ripulito le spiagge in modo perfetto sono persone che fondamentalmente hanno lavorato e quindi insieme alla comunità hanno messo a disposizione le loro competenze la loro voglia anche di presentare pane e pomodori in un modo differente complice anche il caldo tantissimo ma anche l'affluenza di gente poi comunque la gente tanta gente ci sporca sulla sabbia ci lascia di tutto bottiglie citte quindi molte siringhe anche Ed ora vi mostriamo le prime spettacolari immagini relative ai mondiali di motosurf 2022 che si stanno disputando nella splendida cornice di Rodi Gargani con El Foggiano Oggi seconda giornata di gare gare ufficiali ieri abbiamo avuto le qualifiche giornata importante anche oggi sono partiti sin dalle 8 le prime competizioni grandissima affluenza e ottimi risultati al momento domani giornata di gara finale parata e podio sicuramente sarà la giornata più importante i piloti daranno il massimo e vedremo volare questi ragazzi sull'acqua abbiamo ragazzi dagli 8 ai 14 anni nella categoria Uniones veramente molto forti oggi abbiamo in testa Anita Shacherova rappresentante della Repubblica cieca campionessa del mondo e ancora in testa e con queste spettacolari immagini che giungono da Rodi Garganico chiudiamo l'edizione provinciale del telegiornale dedicato a Bari Batte Foggia ma l'informazione di Sant'Ena Sud prosegue tra pochissimo le news da Taranto poi Brindisi a Lecce grazie arrivederci rimani connesso scarica gratuitamente l'app di Antenna Sud trovi tutte le news i programmi in streaming e on demand e le pagine social grazie a tutti